Novo Cantiano, musicista, pianista, preso parte da alcuni programmi televisivi che hanno fatto la storia di Antenna Sicilia ma è stato ospite anche di programmi della Rai ma soprattutto è un pianista di piano bar che dal 1980 si esibisce nei più nodi locali italiani e internazionali Signore e signori, direttamente da The Voice Senior, Antonello Donna Come Alvisa Chisari, che c'è per dare il pulire che ha cantato 80-90 per cantare tutti insieme Antonello Donna, Alvisa Chisari, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti